Prende sempre più corpo l'ipotesi del commissariamento nel futuro dello stabilimento Ilva di Taranto. Dopo il tavolo tecnico di due giorni fa al Ministero dello Sviluppo Economico, l'avvertenza del Siderurgico si è spostata nella giornata di ieri a Palazzo Chigi, dove il premier Licoletta, assieme al suo vice Angelino Alfano e ai ministri Zanonato e Orlando, ha incontrato il presidente e l'amministratore delegato di missionari dell'azienda, Bruno Ferrante e Enrico Bondi. Una decisione annunciata dal Consiglio di Amministrazione, a seguito del sequestro disposto dalla procura di Taranto, nei confronti della Riva Fire, la società che controlla il Siderurgico. Una doccia fredda da oltre 8 miliardi di euro, quella che ha colpito i fratelli Riva, colpevoli se è contone indagini, di aver sottratto dalle casse dell'Ilva il denaro destinato all'adeguamento ambientale degli impianti, facendolo confluire in paradisi fiscali. Ma a rischio adesso c'è la continuità aziendale e con essa il futuro di oltre 40.000 persone, 20.000 dipendenti diretti in Italia e almeno altrettanti nell'indotto. I tecnici del Ministero sono stati impegnati per tutta la giornata nel tentativo di valutare ogni possibile soluzione alla crisi. L'imperativo è quello di trovare una via d'uscita che possa garantire continuità produttiva, rispetto dell'ambiente e la tutela della salute, andando avanti con la piena attuazione delle prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale. Una decisione potrebbe arrivare già nella giornata di oggi, mentre continuano costantemente gli incontri tecnici. Sul tavolo le diverse ipotesi avanza il commissariamento sostenuto dal Ministro Orlando. Gli esperti hanno vagliato anche la possibilità di un'anticipazione rispetto ai tempi che sarebbero necessari, applicando quanto già previsto dalla stessa legge Salva-Ilba, che indica anche la possibile adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria, in caso di eventuali criticità nell'applicazione dell'AIA riscontrate dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. A questo proposito, proprio nella giornata di ieri, i tecnici di ISPRA e ARPA hanno effettuato il terzo sopralluogo per verificare lo stato di attuazione delle prescrizioni dell'AIA, riscontrando una decina di violazioni. Dall'ottobre scorso sono scattati 36 metri entro i quali l'ILBA è tenuta a completare le 94 prescrizioni per ridurre i livelli di inquinamento. Una missione difficile, ma non proprio impossibile, sempre ammesso che l'azienda sia ancora lì, alla fine del conto alla rovescia.